Ecma 2022, la fiera mondiale del ciclo e motociclo. Ma siamo proprio sicuri che a Ecma si venga solo per le moto? Siamo in compagnia di Daphne. Ciao Daphne, allora interfoni, devo dire che questa è l'ultima generazione, puoi dirci quanti gigahertz sono? Siamo in compagnia di? Jessica. Ciao Jessica, allora vediamo questo bellissimo quad, penso che sia l'ultimo modello, vuoi darci qualche specifica tecnica? Non lo so, so che costa 4.000 euro e basta. Quanti cavalli ha? No, solo io. C'è solo lei. Siamo in compagnia di? Kate e Giulia. Ciao Kate, ciao Giulia. Allora, stiamo in una grande moto, una Ducati di un grande campione. Ha vinto proprio Domenica. Ha vinto Domenica, ricordiamo il nome? Pecco Bagnaia. Bagnaia, quanti anni ha? No, ecco, adesso mi stai chiedendo troppo. Quanti titoli ha vinto? Scusa. Sai quante pole ha fatto? Ma che domande sono? Ma ti sembra che una host sappia che quanti titoli ha vinto un pilota? Siamo in compagnia di? Noemi. Noemi, ciao Noemi. Qua siamo l'FD Motors, diciamo energia sostenibile, perciò parliamo di batterie. Ci puoi dire quanti ampere ha la batteria? Siamo con? Laura. Ciao Laura. Allora, vediamo qua l'ultima collezione di abbigliamento. Volevamo sapere il tipo di materiale che è stato utilizzato per fare questo abbigliamento. Ok, siamo in compagnia di? Natalia. Ciao Natalia, siamo qua all'Anlas, loro fanno pneumatici. Esatto. Puoi raccontarci un attimo la differenza tra i due pneumatici che vediamo davanti? Che tipo di mescolo hanno e se sono radiali oppure meno. Siamo in compagnia di? Sofia. Ciao Sofia. Sofia Forlani. Ah beh, ma tu sei famosissima Sofia. Lei è una star del web di Instagram, è vero? Allora, siamo qua in compagnia, la tua compagnia Sofia perché volevamo sapere ad esempio qua l'olio, no? Quanto, ogni quanto tempo va cambiato? Sì, ma queste cose tecniche non è che me le... La resistenza del motore... Pecco, pecco, pecco su queste cose. Allora non possiamo... Hai sbagliato persona. Abbiamo sbagliato persona. Tutto ciò che vuoi chiedermi ma che non sia olio. In diretta dallo stand SVM ci hanno raggiunto un po' di amici, ovviamente il canale dobbiamo subito menzionarlo, TV Emens, giusto che salutiamo tutti, Marco Racchella, Andrea ovviamente la voce ufficiale per quanto riguarda gli eventi. Io cosa vi devo dire? Grazie. Grazie. Grazie per essere venuti a trovarci presso lo stand di SVM. Ciao. Allora, siamo in compagnia di Sulema. Sulema, come sta andando la gara? Bene, dai, ma no. Dai, che ti voglio fare un bel tiro. Eccolo. Vado fuori tezza. Purtroppo sta guidando e non possiamo disturbarla. Siamo con Camilla e Martina. Per avere i capelli belli, svolazzanti in moto, cosa dobbiamo fare? Usare il casco. Come il casco? Legarsi i capelli, metterli in elastico. Un saluto agli amici di TG Evans dallo stand Aero. E alla fine di questa lunga giornata qua a Ecma in compagnia di Lilli. Noi ovviamente abbiamo scherzato, Lilli, perché le, diciamo, hostess non hanno le competenze tecniche. Cosa fanno? Beh, hanno la bellezza e soprattutto la professionalità, perché comunque Ecma è una grandissima fiera, basata sui motori, ma ormai da qualche anno anche sulle ragazze, perché accompagnano e contornano i motori. Il fatto che il 90% delle persone venga per queste bellissime ragazze. Perciò da Milano è tutto Andrea Evans e TG Evans. Ciao a tutti! Ciao!